Ecco, abbiamo visto che protagonisti delle contestazioni di questi giorni sono stati proprio gli esponenti del Movimento 5 Stelle, allora noi abbiamo ascoltato, abbiamo intervistato il deputato Danilo Toninelli. Sentiamo. La trattativa sulla riforma costituzionale in discussione alla Camera con il Partito Democratico è saltata. Per responsabilità di chi? Non certo nostra, perché sin dall'inizio stiamo cercando di migliorare questa riforma che, diciamo, è essere pessima, ma che, diciamo, anche non essere necessaria per il Paese. Comunque, con un grosso senso di responsabilità per il bene del Paese, stiamo cercando di mettere dalle pezze. S'hanno sempre detto di no, sin dall'inizio. Lei si ricorderà al tavolo in diretta streaming con il Presidente del Consiglio a luglio, dove gli chiedemmo proprio la possibilità di trattare anche sulla riforma costituzionale. Lì ci disse di no e i 200 emendamenti dei colleghi senatori furono tutti bocciati. Abbiamo presentato pochi emendamenti anche alla Camera, tutti bocciati. Tutte porti in faccia una vera e propria azione di forza nei confronti delle minoranze. Lei sa perfettamente che se la Costituzione deve essere toccata, deve essere toccata da tutte le parti, anche dalle minoranze. Così non è stato fatto. Abbiamo fatto addirittura un ulteriore passo avanti, limitando a tre le richieste emendative. E quindi miglioramento della loro proposta. Su una, che per noi era la principale, e che sono i referendum propositivi e consultivi senza cuoro. Da inserire in Costituzione che significa ridare dignità ai cittadini e riavvicinarli alla politica. Quando oggi ne sono distanti anni luce, anzi la odiano la politica, abbiamo visto ancora un no. Noi aspettiamo ancora, ma dubitiamo veramente fortemente, che il PD venga a fare non un passo nei nostri confronti, ma un passo verso la democrazia e verso il bene del Paese. Questi ultimi giorni il confronto parlamentare nell'Aula della Camera sulla riforma costituzionale è stato molto asco. Guardi, c'è da dire che non è il Movimento 5 Stelle da solo che sta contrastando e cercando di migliorare questa riforma. Sono tutte le opposizioni. E non c'è esempio nella storia della Repubblica italiana di una Costituzione modificata a botte di maggioranza. E questo è di per sé contrario ai principi della Costituzione stessa. Quindi noi diciamo al PD e al loro capo Renzi di fermarsi e dare tempo di ridiscutere, oppure di ascoltare le opposizioni e di accettare alcune delle proposte di modifica che le opposizioni gli fanno. Se non riceverete una risposta a questo vostro appello, cosa farete? Pensate ci sia ancora una possibilità di dialogo con il PD? Io dubito fortemente. Oramai sono due anni che sono qui e troppe porte in faccia. Anche se vanno in televisione dicendo che siamo il Movimento 5 Stelle, il popolo del no mi creda è l'esatto opposto. Noi però vogliamo ancora crederci per il bene del Paese, ma sarà un no, sarà ancora un no e noi faremo di tutto per bloccare questa riforma e per cercare di portare in aula quelle che sono le vere riforme di cui il Paese ha bisogno. Cioè combattere una corruzione dilagante che sta rovinando la vita dei cittadini, perché se i servizi pubblici sono così pessimi e costosi, è colpa della corruzione diciamocelo chiaramente. E per ridare dignità e libertà ai cittadini stessi e alle famiglie, con che cosa? Con una legge sul reddito di cittadinanza. Ridare un minimo reddito a chi ha perso il lavoro, magari anche a 50 anni, significa dare quella dignità anche per guardare in faccia al futuro con una visione più ottimista, ma soprattutto per rimettersi in campo per cercare un nuovo lavoro. Questo secondo noi è la strada unica necessaria oggi, quando la disoccupazione è dilagante, per poter far tornare in piedi questo Paese.